Musica Anche quest'anno la magia del cioccolato travolge i brindisini dal 5 all'8 dicembre 2014 infatti per magia il centralissimo Corso Umberto ubicato nel cuore del centro storico della città è diventato un grande laboratorio artigianale a cielo aperto dove sono esposti fiumi di ottimo cioccolato anzi del migliore cioccolato italiano Musica La prima fantasia artigianale in cioccolato è stata realizzata dalla pasticceria Bernardi di Brindisi che riproduce con originalità una delle più belle location della nostra città il monumento al marinaio d'Italia Gli attori principali del festival saranno i bambini dai 6 ai 13 anni che parteciperanno ai lavori impariamo a creare con la cioccolata che con l'aiuto di esperti maestri cioccolatieri potranno dare sfogo alla fantasia L'evento è stato inserito nel calendario degli eventi natalizi 2014 della città di Brindisi quindi tutti su Corso Umberto per una tre giorni dedicata al cioccolato e grandi e piccini vivranno così la grande magia del Natale 2014 Musica 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 Grazie a tutti